ciao fragoline e ciao fragolini allora nuovo video facciamo l'unboxing della dashcam praticamente è una camera che riprende per la macchina per l'auto come leggete dal titolo è un unboxing perché io non vi faccio vedere proprio l'unboxing perché ovviamente non è nuova ed è un po' che la sto provando però vi posso far vedere la scatola e quello che c'è dentro allora la scatola è questa si chiama adash dashcam questa qua presa su amazon allora semmai vi dico non so se volete sapere qualcosa la batteria eccetera però dovete dirmelo voi comunque adesso vi faccio vedere non so non mi ricordo cosa c'è dentro comunque è in hd a 170 gradi di inquadratura display hd monitor vabbè l'audio e il parcheggio perché non mi ricordo da un bel po che ce l'ho ma non mi ricordo allora nella scatola trovate la telecamera che adesso vi farò vedere un pezzettino che ho ripreso intanto che stavamo andando in macchina trovate il supporto sia da mettere in auto e le due telecamere una telecamera va dietro praticamente nel baule e invece l'altra che è più grande va attaccata nel nel sotto allo specchio non mi comunque credo che avete capito ma tanto vi farò vedere la clip la telecamera piccolina quella piccola piccola che ovviamente mi sono dimenticata di riprendere ma poi della farò vedere più avanti nella seconda parte vi spiegherò anche come funziona e ci sono solo le carte perché giustamente è tutto collegato nella macchina ci sono le istruzioni adesso vediamo se riesco a far vedere se ci sono qualche forse riesco no pensavo che c'è che no niente vabbè allora dentro trovati i cavi che dovete collegare a nella macchina poi trovate dentro le due telecamere una piccolina quella minuscola quadratina e una quella grande che praticamente fatta così con la scherma non è touch di fianco i pulsanti dove schiacciate per diciamo a parte che è automatico in senso che quando voi accendete la macchina si accende la telecamera e registra non registra almeno non registra tanto io con questa dash cam non mi sto trovando bene sinceramente non mi piace perché appena tu spegni la macchina la non registra più in senso che se tu metti la macchina in un parcheggio la telecamera non non registra ti registra solo sei in movimento e lì non va bene perché se tu vuoi sapere chi è stato a diciamo spaccarti la portiera o tantomeno aprire la portiera e diciamo farla andare addosso alla mia macchina come è successo a me a me è successo due volte due per non dire parolacce cosa hanno fatto erano due vecchietti io l'ho visti da lontano lontano perché non è che potevo correre c'è dall'altra parte della strada ma l'ho visti questi cosa hanno fatto hanno parcheggiato la macchina vicino la mia quando sono ritornati dopo ovviamente hanno aperto la portiera ma forte l'hanno fatta sbattere contro la mia e mi hanno ovviamente segnato la le due portiere sia una che l'altra ovviamente non nello stesso momento ma il primo giorno è successo questo secondo giorno me l'hanno fatto sull'altra parte e o2 c'era macchina nuova neanche dopo due mesi me l'hanno regata in poche parole ovviamente adesso la dovrò portare ad aggiustare perché c'è la mia macchina è nuova vederla rovinata per colpa degli altri no mi girano le scatoline per cui per colpa degli altri dovrò pagare il danno però a parte questo vi dico questo perché io questo l'ho presa per per il fatto che mi hanno regato la macchina me l'hanno toccata e non piccolo così si vede così cioè e quella in teoria dovrebbe servire per quando la macchina anche parcheggiata dovrebbe riprendere così e mi non so chi è stato invece no questa telecamera non riprende 24 su 24 ma solo se la macchina è accesa e questa è una cosa che io non ho guardato e tantomeno non ho letto le recensioni o quello che c'era scritto l'ho preso detto sembra buona prendiamo invece no e vabbè appunto vi dico che questa qua registra se attaccata la spina c'è un non mi ricordo come si chiama è tipo quello delle sigarette c'è questa spina che voi attaccate nella macchina e carica la deve essere in carica la telecamera se no non va la mia esperienza è negativa perché non è quella che volevo io alla fine la volevo rimandare indietro però ho visto che anche lì non sapevo se rimandarle indietro perché alla fine l'ho pagata 40 euro forse in promozione a 40 euro ma costava di più di 40 euro adesso mi ricordo e allora ho detto vabbè per 40 euro che cavolo la mando indietro a fare poi dopo sono stata scema e potevo dire no sono sempre 40 euro la mandavi indietro te ne prendeva un'altra decente perché ce n'è una diversa dove ti registra 24 ore su 24 anche se la macchina è spenta invece questa qua non lo fa per cui niente per il momento teniamo questa questo serve di più quando va in giro che ad esempio che ne so qualcuno ti viene addosso questo è utile perché ti registra tu sai che puoi vedere il filmato e digli guarda che sei andato te addosso a me c'è capito per cui questo è probabile che può essere ottimo come cosa per invece la registrazione 24 ore con la macchina spenta sinceramente quella con la macchina anche spenta che registra 24 ore in poche parole sto cavolo di insetto in poche parole costa più di 100 e passa euro però spero poi di prenderla un giorno per il momento sto usando questa sto diciamo non è male perché la qualità registra bene infatti adesso vi lascio qua una piccola clip che ho registrato intanto che il mio ragazzo stava guidando perché giustamente io non è che posso guidare e farvi vedere ovviamente quello che riprendeva per cui noi eravamo in centro como e per farvi capire le due telecamere sia dietro che davanti riprendevano e così sei sicuro che se ti viene addosso qualcuno le puoi far vedere il filmato per cui questa già è una bella cosa però la qualità non è male e niente non so cosa dirvi d'altro perché giustamente se non ve la posso far vedere non ve la posso mostrare registrandola perché adesso è attaccata alla macchina per cui ovviamente non posso dire di non la posso staccare per farvela vedere se mai poi un giorno quando sarò nella nuova casa vi farò vedere nel parcheggio vi farò vedere come funziona e come si come si vede comunque detto questo parlato fin troppo era un video anche un po' chiacchierino perché non vi potevo far vedere niente tantomeno mostrarvi niente comunque io non ve la consiglio preferisco prendere quella da 24 ore su 24 per questo io vi consiglio quella che registra proprio tutto il giorno e solo che non so perché alla fine questa si riprende un pezzettino però se deve riprendere tipo del lato di qua non lo riprende per cui non so se esiste una telecamera devo poi vedere comunque niente questo è quello che volevo farvi vedere quello che volevo spiegarvi detto questo se il video è stato utile lasciatemi un like fatemelo sapere qua sotto mi sto impiepilando come sempre fatemi sapere se volete alla seconda parte dove mi mostro veramente come funziona e tutti i dettagli e farvela vedere come dal vivo proprio registrata anzi attaccata la macchina che perché ci vuole uno spazio diciamo un posto dove posso farvi vedere senza rumore senza qualcuno che passa cose diciamo che mi potrebbero segnalare per cui dovrò trovare un modo per farvelo vedere anche come come l'ho attaccata nella macchina con i figli eccetera è stato neanche difficile perché poi alla fine ha dovuto farla passare in tutta la macchina in poche parole va bene detto questo ci vediamo al prossimo video io aspetto i vostri commenti qua sotto e niente vi saluto qua ciao e al prossimo video